Ed eccoci qua ragazzi, è da un po' che si parla spesso di Gohan all'interno della community, perché? Perché anche nel manga finalmente era aggiunto la forma Gohan Beast, forma a cui noi comunque eravamo già abituati, perché diciamoci la verità, avendola vista nel film, poi quello che è successo nel manga non cambia assolutamente niente, ormai è una forma che aggiungono addirittura i videogiochi, però raga, proprio per questa cosa volevo dedicare un paio di contenuti al nostro caro Gohan, che rimane comunque uno dei miei personaggi preferiti e in generale questo video in particolare era in cantiere da un po' di tempo. Oggi voglio parlare dei 10 migliori momenti della storia di Gohan. Oltre a inserire moltissimi momenti di Dragon Ball Z, praticamente questa classifica è composta quasi solo da momenti di Dragon Ball Z, tranne per veramente alcune parti, ma proprio piccolissime, ho voluto inserire anche delle cose non canoniche, perché comunque volevo prendere, diciamo così, una visione un po' più ampia di tutto il franchise, anche parlando dei migliori momenti di un personaggio, direi che possiamo cominciare e come al solito iniziamo dalla decima posizione. In decima posizione infatti ho voluto inserire Gohan e Trunks del futuro che affrontano gli androidi 17 e 18. Questa è una scena che proviene dall'anime, in particolare da Dragon Ball Z The History of Trunks, che è uno speciale, ok, ambientato nella linea temporale fratturata di Trunks del futuro, in cui racconta i 13 eventi che lo rimandano indietro nel passato per aiutare Goku e compagni contro gli androidi e il dottor Gero. Anche se tecnicamente questa non è la versione principale di Gohan in quella timeline, Gohan del futuro in questa versione qua diventa una figura di mentore di Trunks del futuro, dopo che il resto degli eroi del mondo vengono uccisi proprio dagli androidi. La morte di Gohan del futuro poi diventa anche il fattore scatenante che spinge Trunks del futuro allo status di Super Saiyan per la primissima volta. Questa è una scena importantissima perché letteralmente è il perno di tutto quello che sarà poi la saga degli androidi, perché grazie alla morte di Gohan Trunks raggiunge il Super Saiyan e in generale la figura di Gohan del futuro è una figura amatissima anche adesso. Anche oggi ritorna un po' virale il design di questo personaggio che rimane veramente veramente molto molto figo. In generale ho voluto inserire in decima posizione tutto quello che riguarda il Trunks del futuro. In nona posizione ho voluto mettere una scena estremamente sottovalutata che in pochi si ricordano, ovvero lo scontro, tra virgolette, anzi la rabbia di Gohan nei confronti di Sopovic. Allora, il risveglio di Majin Buu non avviene subito all'inizio della saga di Majin Buu. Difatti, prima che il suo regno di terrore abbia inizio, Babidi deve rubare abbastanza energia per innescare la resurrezione del demone. Quindi Babidi che cosa fa? Manda i suoi servi Majin, che sono Sopovic e Yamu, a raccogliere questa energia. Il che mette anche Videl in pericolo, che veramente rischia di morire in quell'incontro lì. Le azioni di Sopovic sono così crudeli che costringono Gohan a far saltare anche la sua copertura da Great Saiyan. E diventa il Super Saiyan per combattere contro quest'avversario. E vediamo anche in questo caso la rabbia di Gohan, che raggiunge livelli estremi. Questa è una scena che a me piace molto, perché Gohan diventa così arrabbiato proprio per difendere Videl. Non abbiamo così tante scene tra Videl e Gohan alla fine della fiera, soprattutto in Z, perché effettivamente appare verso la fine di Z, quindi non è che la conosciamo così bene. Però queste scene qua io me le tengo ben strette, questa secondo me è una delle mie preferite in assoluto. In ottava posizione invece ho voluto inserire l'incontro tra Gohan e Radish, in particolare quando Gohan mette quasi al tappeto Radish. Allora, ora, dobbiamo anche fare un attimo un passo indietro. Dovete ricordarvi anche com'era percepito Radish rispetto a tutti gli altri villain che abbiamo avuto all'interno di Dragon Ball. Questo personaggio sembrava essere estremamente forte, anzi il più forte in assoluto che avevamo incontrato fino a quel momento. Ecco, era veramente spaventoso. E per questo motivo in ottava posizione ho voluto inserire una scena che ha fatto innamorare di tutti Gohan, perché semplicemente Gohan, vedendo suo padre in difficoltà, dà per la prima volta sfogo alle sue abilità, dà per la prima volta sfogo alla sua rabbia, e si getta contro Radish, salvando suo padre e rendendo anche il Saiyan molto molto vulnerabile agli occhi anche degli spettatori. Per la prima volta Radish viene messo in difficoltà da qualcuno, e quel qualcuno, guarda caso, è il ragazzino che noi, spettatori, abbiamo iniziato a conoscere solo da pochissimo tempo, perché quella è una delle primissime apparizioni di Gohan. Ecco, qui veramente ha conquistato il cuore di tutti, anche il mio. Io questa scena me la ricordo benissimo, mi ricordo ancora le sensazioni che provavo guardando questa scena. Purtroppo poi Gohan non è diventato il protagonista di Dragon Ball, come molti si aspettavano anche all'epoca, ma sicuramente quella scena rimane negli annali per me in tutto quello che riguarda Dragon Ball, e ripeto, dobbiamo anche ricordarci com'era percepito Radish all'epoca. In settima posizione ho voluto inserire un momento che non è epico, non riguarda niente col combattimento, ma è più dolce, ovvero ho voluto inserire il momento in cui Gohan insegna a Videl come volare. Allora, come vi ho detto anche prima, Videl non è un personaggio che noi vediamo così tanto all'interno di Dragon Ball, quindi le poche scene in cui c'è per me sono preziosi, soprattutto nel momento in cui vediamo Videl che parla con Gohan, che cresce insieme a lui. In particolare, questa è una scena, anzi, è un insegnamento che Gohan dà a Videl, che funge anche un po' da appuntamento, praticamente. Allora, c'è da dire che Videl era già un'esperta nelle arti marziali, però non aveva assolutamente idea di come manipolare il ki e neanche come utilizzare gli attacchi energetici. Grazie a questo, infatti, Gohan prende la palla al balzo per provare a insegnare la cosa base nell'utilizzo del ki, ovvero volare, che in Dragon Ball è una cosa che sanno più o meno fare tutti i guerrieri. Comunque, è una scena molto molto bella, che sicuramente per i fan della coppia Videl e Gohan è anche molto importante, perché anche qui serve molto poi per il futuro. Comunque, io ho voluto inserire almeno una scena dolce in questa classifica, perché mi sembrava giusto, ma torniamo tranquillamente ai combattimenti. Infatti, in sesta posizione ho voluto inserire quando Gohan uccise Bojack. Anche qui stiamo parlando di qualcosa che non è canonico. Infatti, parliamo del film Dragon Ball Z Bojack Unbound, che è il nono film di Dragon Ball Z ed è particolarmente udico, perché è ambientato nel momento in cui Goku sta nell'altro mondo dopo essere morto durante i Cell Games. In poche parole, questo film consente a Gohan di essere di fatto la vera prima linea di difesa contro la Terra, contro appunto anche i soldati galattici di Bojack. Bojack cerca in tutti i modi di sconfiggere Gohan. Alla fine, grazie all'utilizzo anche del Super Saiyan 2, che era almeno all'epoca la trasformazione proprio, come dire, simbolo di questo personaggio, riesce a sconfiggere il nemico in un solo colpo, lasciandogli veramente una fine catartica anche per noi spettatori alla fine del film. Una scena che gli amanti dei film di Dragon Ball Z sicuramente si ricordano. In quinta posizione ho voluto inserire quando Gohan finalmente riesce a prendere la Z Sword, la spada Z, e riesce a completare il suo allenamento dai Kaioshin. Questo è un momento molto importante per tutti i fan di Gohan, perché in questo momento qui Gohan viene riconosciuto da tutti, anche dai primi dei che noi iniziamo a conoscere all'interno di Dragon Ball Z come un guerriero estremamente, estremamente forte. Utilizzando poi la spada Z, voi sapete che cosa succede, libera anche il vecchio Kaioshin e quindi alla fine dimostrerà anche di avere un potenziale potentissimo, e che è effettivamente potentissimo raggiungendo anche la forma suprema. Questo è una scena molto importante, è un avvenimento molto importante nella vita di Gohan. In generale sono abbastanza contento che almeno all'inizio della saga di Majin Bu, Gohan ha un'importanza del genere. In quarta posizione infatti ho voluto inserire il suo scontro contro Super Bu. Allora, nonostante poi Kid Bu verrà sconfitto da Goku nella solita scena da finale di saga di Dragon Ball, c'è da dire che per almeno un momento la saga di Majin Bu sembrava prendere una direzione diversa, sembrava che doveva essere proprio Gohan a dover sconfiggere Majin Bu. E questa cosa sembra avvenire quando effettivamente il ragazzo affronta Super Bu. Tra l'altro lo affronta dopo tutto l'allenamento, tutta la storyline che noi abbiamo visto sul pianeta dei Kaioshin, l'allenamento che ha fatto, la forma ultimate che raggiunge. E effettivamente nello scontro Gohan, nonostante nello scontro, sembra abbastanza alla pari, alla fine sembra avere quasi la meglio, ma alla fine poi Dragon Ball Z non è così tanto imprevedibile, e anzi quindi alla fine anche Gohan viene assorbito da Bu e quindi si ritorna a punta capo e la palla, diciamo, torna a Goku e a Vegeta. Peccato perché sembrava veramente il momento di rendere Gohan il guerriero definitivo, il protettore definitivo della Terra, ma evidentemente non c'era ancora il coraggio di fare una cosa del genere. Succederà prima o poi? Non lo so. Rimane il fatto che quello scontro per me è uno degli scontri più belli di Dragon Ball in assoluto. In terza posizione invece ragazzi ho voluto inserire una scena estremamente recente, ovvero la trasformazione di Gohan in Gohan Beast. Sì ragazzi, l'ho voluto inserire, perdonatemi, lo so che alcuni di voi non saranno d'accordo perché appena sentono la parola super che segue Dragon Ball si nervosiscono, ma per me ci sono delle cose interessanti, tipo la forma Gohan Beast per me è una cosa molto molto figa. Cosa vi devo dire? Questa forma qui che tra l'altro Gohan raggiunge perché pensa di aver visto morire piccolo, piccolo che ricalca anche la forma Super Saiyan di livello 2 che raggiunge dopo la morte di C16 durante i Cell Games, per me tra citazionismo e anche tra la novità della Gohan Beast si merita la terza posizione, quantomeno il podio se lo merita. Per poi non parlare del fatto che sta forma qui, anche solo a livello estetico, è veramente figa. Cioè, volete dire il contrario? E comunque, vi dico, in Dragon Ball l'estetica e l'epicità dei personaggi contano, fidatevi che contano, perché noi ci ricordiamo le cose anche grazie a quello e per me questa forma è una figata pazzesca. E quella scena, secondo me, è fatta molto molto bene, rendendo Super Hero uno dei miei film preferiti di Dragon Ball in generale. Quindi, se non siete d'accordo, commentate, voglio sapere la vostra, ma per me è così, per me quel film rappresenta Dragon Ball in tutto e per tutto. In seconda posizione ho voluto inserire la Kamehameha di famiglia che Gohan, suo padre e suo fratello lanciano contro Broly in Dragon Ball Z Broly Second Coming. Questo è un altro film che ho voluto inserire, anche qui uno dei migliori film di Dragon Ball secondo me, e come al solito quando c'è un villain interessante, non canonico, dei film di Dragon Ball compare più volte. Ecco, di fatti è quello che succede in questo film. Questo è il sequel di fatto del film contro Broly che vede anche questa volta la presenza di Gohan, che però questa volta è adulto rispetto alla prima in cui è un ragazzino. Oltre a lui c'è ovviamente suo padre, immancabile, ma anche Goten. E l'attacco finale che utilizzano questi tre per affrontare Broly, per sconfiggere definitivamente, è proprio questa Family Kamehameha, come viene detto in gergo. In italiano, in un strano, non so nel doppiaggio originale, in italiano almeno come viene chiamata, ma io non ho mai in realtà visto questo film in italiano, quindi sinceramente non lo so. Semplicemente questa è una Kamehameha che fanno Gohan, Goku e suo fratello insieme. Ma è un momento molto epico, anche qua, abbastanza citazionistico del finale della saga di Cell, in cui Goku sembra aiutare, tra molte virgolette, Gohan con la sua Kamehameha. Quindi per me questo momento si merita tranquillamente la seconda posizione, nonostante non sia un momento canonico. In prima posizione invece, ragazzi, ho voluto inserire, ovviamente, quando Gohan raggiunge il Super Saiyan di secondo livello. Questa è una scena della Madonna. Chi conosce questo canale sa benissimo che quando c'è una top dei momenti più importanti, più belli di Dragon Ball, questa scena, per quanto mi riguarda, è sempre nella top 3. Sempre, sempre, sempre. E qui ho voluto inserire tutto il comparto della scena dei Cell Games, in particolare sin da quando Gohan si trasforma, fino alla sconfitta di Cell. Perché altrimenti solo questa parte qui avrebbe compreso due o tre posizioni da sola. Quindi volevo semplicemente accorpare il tutto in una, tanto la prima posizione se la merita e come. Gohan raggiunge il Super Saiyan di livello 2, dopo aver visto la morte di C-16, in una situazione veramente, veramente complicata, e riesce a sconfiggere un cattivone completamente da solo. Non completamente, ma possiamo dirlo, da solo? Dai, assolutamente sì. Tra l'altro questa è una cosa molto importante, perché fino a quel momento lì, praticamente, il protagonista assoluto è sempre stato Goku, cosa che è ancora adesso così. E questa volta qui, però, il cattivo di Saga, il grande cattivo, viene sconfitto definitivamente, non da Goku, ma da suo figlio, il suo erede, ovvero Gohan. Per me è un personaggio importantissimo. Questa scena, per me e per tutti i fan di Gohan, è estremamente importante. Sono sicuro che se siete fan di Gohan, questa è una scena da primo posto, a prescindere. Ragazzi, che dire? Anche oggi, devo dire che vi posso salutare, sono soddisfatto di come è venuto questo video e della top. Mi raccomando, ragazzi, fate i bravi, iscrivetevi, lasciate un bel like e noi ci vediamo prestissimo con altri contenuti di Tema Berra Dragon Ball. Ciao a tutti, ragazzi.